Le previsioni meteo per mercoledì 30 ottobre. Mercoledì, atmosfera stabile grazie all'anticiclone. Giornata con generali condizioni di bel tempo, il cielo sereno o poco nuvoloso su tutto il territorio. Clima piuttosto piacevole di giorno con temperature massime fino a 26 gradi, valori notturni leggero calo. Mari. Mar Tirreno calmo, Mar Ionio mosso, stretto di Sicilia da mosso a poco mosso. Grazie.